ricostruzione democratica, nuovo patto sociale, riforme, un progetto per l'Italia. Oggi mi toglierò un po' di sassolini quindi rischio di essere un po' politico, va bene, come tanto. No, dice, dice, dov'è il progetto? L'altra domanda che ci fanno. Che fanno solo a noi, eh? Ma noi siamo, no, ma noi siamo contenti. Perché io lo sento far solo a noi, ma io sono contento perché, ecco, dov'è il progetto? Io dico, stiamo lavorando, ma, appunto, non è che siamo stati qui a pettinare le bambole? Oh, no, aspetta, aspetta, a Genova, diciamo, asciugar gli scogli. Che cosa? Cioè, noi abbiamo, abbiamo, non solo, noi abbiamo non solo della cosa fatta, diciamo elaborata, abbiamo anche della cosa decisa, decisa, che può comporre, certo, dobbiamo ancora lavorare, per l'amor di Dio, però chi ci fa questa domanda, che allude sempre al fatto di un PD che non ha, diciamo, sufficienti proposte per essere un parito riformista, intendiamoci, uno stimolo che dobbiamo prendere, eh? Perché, oh, non sto mica dicendo che siamo a posto, da me non sentirai mai, vedete, mai dire che non c'è da lavorare, perché noi non siamo ancora a posto, però perbacco, che mi venga a fare l'obiezione della gente che non ha ancora risposto alla domanda che io, come un mantra, ho fatto tutte le assemblee, tutte le cose, sperando che qualcuno, come un politico, come loro mi rispondesse, al seguente domanda, ma quando cominciò questa legislatura? Che secondo noi c'era la crisi, secondo loro non c'era la crisi, secondo noi sarebbe stata una roba piuttosto lunga, secondo loro era una roba usoridere, è tant'è vero che in nome di quella loro teoria, fecero all'Italia, tolse la tracciabilità, finanziarono gli straordinari, tolse la seconda parte dell'ICI, 10-15 miliardi, e noi che dicevamo, perché per tabula si sono le nostre ordine di giorno, che dicevamo, no, guardate, quei soldi lì li mettete in un grande piano di piccole opere dei comuni, perché c'è un problema di occupazione, e li mettete in una riduzione del carico fiscale su pensioni e famiglia a basso reddito perché i consumi sono troppo bassi, io ho chiesto e chiedo, chi aveva ragione? È titolato a chiederci se abbiamo il progetto solo chi dice chi aveva ragione?